Buongiorno, sono Andrea Ricci, consulente dell'immobiliare. Ci troviamo a Moncalieri in Corso Savona 4 bis. Oggi vi presentiamo un bar sul fronte strada dotato di Deor permanente esterno. Il bar si trova nei pressi dell'Aci. Ci sono moltissimi uffici e attività commerciali nel dintorno. Entriamo a vedere il bar. Come potete vedere l'arredamento è classico, ben tenuto. Lo spazio si sviluppa in profondità. Abbiamo un bancone molto lungo. I lavori di ristrutturazione sono stati fatti non tantissimo tempo fa. Abbiamo il controsuffitto, luci, condizionatori, video e sollevianza. E questa sala posteriore con la possibilità di inserire anche dei posti a sedere per le consumazioni. Ora vediamo gli spazi tecnici. I servizi igienici sono stati rifatti da poco. La cucina è dotata di cappa, canna fumaria, fuochi. Ha una dimensione abbastanza generosa. All'esterno, nel cortile, possiamo usufruire anche di un box che in questo momento è adibito a magazzino. Come ultimo troviamo lo spogliatoio. Le condizioni per acquistare queste attività commerciali sono il prezzo 63 mila Euro. Così suddivisi 20 mila Euro di anticipo e il resto cambiali. Grazie.